Ancora un lutto per Ariano Irpino. È morto all'ospedale Frangipane, Franco Loconte. Ricoverato qualche settimana fa, trasferito in rianimazione, era risultato positivo al coronavirus. Per giorni i familiari ed amici hanno pregato di fronte a timidi segnali di miglioramento, ma nel pomeriggio la terribile notizia del decesso. Franco Loconte è stato più volte assessore provinciale e comunale ad Ariano. Nel 2010 per soli 100 voti non riuscì ad entrare in Consiglio regionale. Un uomo per bene che si è fatto apprezzare anche per le sue doti di imprenditure, anima e precursore delle fiere. Nel 2012 ha inaugurato il centro fieristico della comunità montana, il Casune. Si è sempre speso per il suo amato territorio e è stato anche il pioniere delle radio libere a fine anni 70. Franco Loconte, 67 anni, lascia in quanti lo hanno conosciuto il ricordo di un uomo dal carattere forte, una persona sempre garbata e disponibile che tanto ha fatto anche per i giovani.